Affronto questa esperienza con tanta voglia, tanta energia, di voler mettere dentro tutto quello che penso sia giusto mettere dentro, per provare a fare quello che ho in mente di fare e sicuramente per provare a trasmettere tutta la passione che ho dentro di me. Ieri per la prima volta ci siamo incontrati, abbiamo fatto una chiacchierata, ho voluto condividere con loro un pensiero che deve essere il pensiero che ci accompagnerà in questa avventura, difficile ma super stimolante. Il pensiero comune è quello che dentro quello spogliatoio c'è bisogno di ragazzi motivati, ragazzi che hanno voglia di dimostrare tutte le loro qualità, di mettersi a disposizione del gruppo, di far diventare questo gruppo una squadra perché è l'obiettivo prioritario che ci siamo dati. Non mi piace fare tante chiacchiere, mi piace provare a fare i fatti, a me piace allenare, a me piace il campo, a me piace condividere quotidianamente le emozioni con i giocatori e piace coinvolgerli nel pensiero che ho. Sicuramente le basi sono ottime perché ieri ho visto tanta voglia di fare ma questa voglia c'è bisogno di alimentarla ovviamente. Abbiamo voglia di riportare entusiasmo come abbiamo detto, non abbiamo voglia di farlo con le promesse o con le illusioni, abbiamo voglia di farlo con tanto lavoro e questo è il messaggio che ho trasmesso ai ragazzi, si chiama gioco del calcio perché mi piacerebbe che i ragazzi si divertissero giocando sapendo quali sono le grandissime responsabilità che abbiamo.